Uno dei tanti ritorni di quest'anno è sicuramente quello di Barbara Bacciottini, dopo due anni lontano da Soverato, torna con rinnovate ambizioni per disputare un campionato importante con una squadra allestita per disputare un campionato di vertice. Si è partiti domenica scorsa con una vittoria sofferta, adesso si affronta la prima trasferta del campionato, una trasferta ostica contro una squadra come Brescia che comunque già l'anno scorso militava in A2 e ha disputato un buonissimo campionato. Sì, sono molto contenta di essere tornata a Soverato e sono molto contenta del gruppo che è stato fatto perché quest'anno sarà un campionato lunghissimo con tante partite e noi abbiamo una panchina molto lunga quindi siamo una squadra molto competitiva. Domenica abbiamo esordito, non è stato facilissimo e adesso domenica andiamo a Brescia quindi non sarà facile perché Brescia è una buona squadra però ci siamo preparate bene, ci stiamo allenando, stiamo prendendo il feeling con le due straniere che sono arrivate da poco quindi speriamo. Sì, speriamo che vada bene. Prime sensazioni dopo un precampionato comunque molto intenso, ricco di sfide con pari categorie e dopo questa prima giornata che sicuramente ha sancito che questa è una squadra che ha carattere perché essere sotto 2-0 e rimontare non è sicuramente facile con la pressione di dover giocare in casa davanti ad un pubblico molto caloroso tra l'altro. Sì, il nostro pubblico è caloroso e le nuove arrivate l'hanno capito subito dopo domenica, noi lo sapevamo già. Sì, siamo una squadra con carattere e sarà un campionato difficile perché anche le neopromosse nel precampionato hanno dimostrato di essere comunque squadre di livello quindi si può vincere con tutti, perdere con tutti, ogni partita va affrontata con la massima concentrazione e quindi sarà un campionato difficile. Ormai sei alla quarta stagione consecutiva in Serie A2 tra Soverato, Rovigo e Cisterna, secondo te alla luce dei roster che hai potuto vedere alla partenza di questo campionato quali sono le squadre da tenere d'occhio, quali secondo te invece potrebbero essere le cosiddette upsider, al di là del Soverato che comunque è considerata sempre una squadra da vertice? Secondo me sono squadre molto forti Cuneo, Trento, Chieri, però sia nel precampionato che nella prima di campionato i risultati hanno un po' diciamo smentito le previsioni quindi tutte possono vincere, tutte possono perdere, noi siamo sicuramente ripeto una squadra secondo me competitiva perché abbiamo una panchina molto lunga e quindi secondo me potremmo dare dal filo da torcere a tutti. Coach Barbieri, prima trasferta stagionale, si va a Brescia contro il Millennium Brescia, una squadra che già l'anno scorso si è comportata bene in questo campionato di A2, guidata da un allenatore comunque esperto di questa categoria, dopo la bella ma sofferta vittoria di domenica scorsa, adesso comunque ci sono le aspettative di un buon risultato anche in trasferta? Sì sicuramente, devo dire che se si vuole puntare ai playoff non bisogna pensare di vincere solo in casa ecco perciò andremo là, cercheremo di fare punti, siamo consapevoli che è un campo difficile, loro hanno ben figurato la prima partita pur essendo confitti abbiamo studiato bene la partita perché di materiale ne abbiamo parecchio in quanto loro hanno giocato diversi amichevoli perciò siamo pronti per giocare un match sia sotto l'aspetto mentale che tecnico siamo molto pronti. Che tipo di squadra è questo Millennium Brescia? Ha cambiato qualcosina? Ci sono nel suo roster alcuni elementi esperti che sicuramente fanno da traino e quindi già domenica scorsa comunque hanno conquistato un punto in trasferta perdendo al Tyberg a Baronis? Sì sì loro hanno cambiato molto, hanno preso due straniere di grande valore perché sia Deili che Vilpone l'hanno fatto molto bene in questo precampionato, queste sono un po' le bocche di fuoco, una squadra nuova ma direi è molto equilibrata in tutti i fondamentali perciò è difficile da trovare una squadra difficile, trovare un difetto però noi siamo convinti come ho già detto prima di poter fare un'ottima partita. E' trascorso ormai quasi una settimana dall'esordio in campionato di domenica scorsa, quale sono le sensazioni e le emozioni di coach Barbieri dopo questa vittoria al Tyberg perché sicuramente la percezione che si ha dopo la partita è poi diversa da quella che si ha a mente fredda magari riguardando la stessa gara? Sì no noi siamo arrivati, sapevamo che avremmo avuto qualche incomprensione perché avevamo le due straniere arrivate da qualche giorno, soprattutto Alexi era qua da un giorno e mezzo perciò abbiamo fatto un allenamento. Questa settimana ci siamo allenati assieme, penso che già gli automatismi, soprattutto la correlazione muro difesa stia funzionando, abbiamo potuto rivedere un attimino la partita, penso che parlando di domenica scorsa sia stato più un aspetto mentale dell'inizio, la tensione, soprattutto il primo set ci ha fatto commettere qualche errore un po' banale, poi è stata partita e nulla di che. Sappiamo che c'è bisogno di tempo ma non sono noi anche qualche altra squadra, a mio avviso i valori usciranno strada facendo perché queste giornate alcune squadre come noi hanno avuto poco tempo per provare i sestetti, comunque penso che nell'arco di due settimane saremo in forma.